Questa è la tua macchina. Questo è un distributore di carburante Q8 Easy. Questo sei tu. Caro socio di Q8 Easy Club, lo sai che ti vogliamo bene? Per dimostrartelo abbiamo riattivato la promozione 30 più 30. Per ogni 30 euro di carburante, prima di procedere con il pagamento, inserisci il tuo Easy Code nell'accettatore automatico. Riceverai così un coupon del valore di 30 euro da spendere per il tuo shopping online. Questi i siti di e-shopping sui quali approfittare dello sconto. Imetec, Tucano, iFan, Brandani e Caleffi. Per usare il coupon basta accedere all'app o all'area riservata del sito di Q8 Easy Club. Qui puoi verificare i tuoi coupon e selezionare il partner QQiSpenderly. Siamo felici di avere un socio come te. E se ancora non lo sei, vai sul sito di q8easy.it. Diventarlo è facile e gratuito. Solo con Q8 Easy Club fai il pieno di shopping online.